Ok, vediamo qua. Raga, raga, 9 skip, è tanta roba 9 skip. Ragazzoli, bentornati e benvenuti sul mio canale, io sono Laser. Come potete vedere, acquisti inviati. 100 punti energia, 1000 raddoppi XP, 250 bling, premio star, 25 crediti, 100 monete, ragazzi, e 720 gemme. Si scioppa! Vogliamo le casse, vogliamo comprare di tutto e di più. Mi raccomando, ragazzoli, se vi piace questo contenuto, un bel pollicione in su, fatemi sapere nei commenti se voi avete scioppato, avete trovato la skin quella di Rico, gemme, gemme quelle viola, bling, fatemi sapere un pochettino tutto. E ragazzoli, io vi aspetto oggi alle 2 in live perché proverò in anteprima mondiale il nuovo gioco Project Rise di Supercell. È un gioco attualmente in alfa, quindi soltanto poche persone potranno giocarci e fortunatamente sono stato selezionato per giocare dalle 2 alle 5, quindi vi aspetto in live. Detto questo, ragazzi, next, next, ah, vabbè, dobbiamo arrivare alla fine, perfetto, ok. 360 più 360 più 100. Raga, l'avete visto tutti? È diventato mitico. Diventa leggendario, mi potrei sentire. Ragazzi, però dai, mitico ci sta. Skin? Una banana. Ma stiamo scherzando. Va bene lo stesso, ragazzi, allora, ci andiamo a prendere il premio gratuito giornaliero. Abbiamo la bellezza di 741 gemme, quindi abbiamo la possibilità di shoppare l'offerta da 20 megacasse e l'offerta da 5 megacasse. Io, ragazzi, ve lo dico già ora, l'offerta da 20 megacasse la shopperemo in live a seconda del numero di abbonamenti che farete durante la live, perché così almeno ogni tot abbonamenti shoppiamo le megacasse. Quindi, ora andiamo ad aprirci le 5 megacasse, absolutely. Vogliamo acquistarle? Ne siamo proprio sicuri alla probabilità delle ricompense? No, mi secca andare a vedere. Che bello. Confermo acquisto, 5 megacasse, ragazzi, acquistate. Andiamo. Basta, andiamo, andiamo. La prima. Quanti skip mi dai? 5. Ok, 34. 2 gemme. 134. L'icona di El Primo. Quanto mi piacciono queste reazioni con le megacasse, ragazzi, sono incredibili. Ok, la prima è andata. Seconda. 4. Ah! Oh! Oh, uno skip luminoso! Attenzione, attenzione! Una skin. Bella. Brock Ranger, se non sbaglio. No, vice sceriffo Brock. Lo attiviamo? Ma sì, attiviamo ora, ragazzi, ma che ce frega. Terza megacassa per noi. 7 skip. Gustosi, 7 skip. Dammi quello luminoso, ora mi sento male. Raga, raga. Raga, vi prego. Vi prego. Ti prego, dammi la skin. Ma quella... Ah, mamma mia, ragazzi, stavo... Vabbè, apposto, apposto così. Continua, lo attiviamo perché è carino. Questa molto carina. Questa qua, bella pure. E abbiamo pure la reazione di Frank Cavernicol. Ok. Ok. Quarta cassa per noi, quindi. Quattro skip luminosi. Ma se... Cioè, quattro skip, magari fossero quattro luminosi così. Dai. Ragazzi, ultima megacassa. Ultima megacassa. Due skin su quattro. Ok. Vediamo qua. Raga. Raga, nove skip. È tanta roba, nove skip. Sette. Sette, ok. Attenzione! Attenzione che abbiamo sei... No, non sono sei skip luminosi. Però abbiamo lo skip luminoso già al sesto. Ti prego, ti prego, ti prego, dammi una skin di Rico. Quella con i bling. Ragazzi, ho fatto il sondaggio nella pagina community del canale. Avete votato tutti i bling. Ti prego. Quanto ce l'avevo creduto, ragazzi. Quanto ce l'avevo creduto. Che era Enrico, ma non è. Enrico brigante rosso. Dai. Però abbiamo un altro skip luminoso. Raga. Ragazzi. Un attimo, un attimo. Ma altro skip luminoso significa che io trovo un'altra skin? O posso trovare tipo un'icona giocatore o un qualcosa del genere? Non lo so. Ok. Ok, due skin. Ok. Ti prego, dammi un'altra cosa luminoso. No, ti fa schifo. Ok, vabbè, ragazzi. Non ci possiamo lamentare. Abbiamo trovato quattro skin in cinque megacasse, tra cui due nell'ultima. Ragazzi, non ci possiamo lamentare. Non ci possiamo lamentare assolutamente. Che cosa ho di gratuito? Ma l'ho già ritirato. Non ci possiamo assolutamente lamentare. Ragazzuoli, speravo vivamente di trovare uno di questi Enrico. Però comunque sappiamo già che questa skin l'abbiamo assicurata. Perché? A parte il fatto che andremo a completare tutte le megacasse, quindi ne apriremo sicuramente altre quattro. Però poi ci sono altre 20 megacasse da aprire. Ragazzi, quello contenuto incredibile lo faremo fra qualche giorno. Mi raccomando, durante il live fate gli abbonamenti. Perché così, ragazzi, mettiamo una soglia di abbonamenti o qui o sul sito Viola, perché probabilmente farò la live in contemporanea. E a seconda di quando si supera l'obiettivo, apro tutte le 20 megacasse. Ovviamente, ragazzi, non ve lo sto nemmeno a dire. Se avete la possibilità di shoppare queste casse, shoppate le offerte da 5, da 10 e da 20. Non shoppate questa. Ragazzi, questa qua non dico che è uno scam. Però, cioè, ragazzi, se voi vi fate la somma di quanti giorni sono, sono 20 giorni, per due fanno 40 casse. E voi dovete pagare 790 gemme per due, fa 1500 gemme per 40 casse. Mentre con 500 ne riprendete già 20, ragazzi. Mi raccomando, non fatevi fregare questo, evitatelo. Queste altre due, compratele, va bene? Ragazzoli, io vi ringrazio per la visione. Belle skin, belle belle skin. Io vi ricordo che ci vediamo più tardi con la live, quella esclusiva, con il nuovo gioco. Mi raccomando, un bel like, commentate e iscrivetevi per non perdervi nient'altro, tra cui video, live e giveaway, che faccio molti giveaway per voi. E ragazzi, noi ci vediamo più tardi con la live e domani con un nuovo video. Ciao!